Lo definiscono addetti ai lavori ed appassionati un altro campionato. In realtà è sempre lo stesso che è cominciato a settembre e quello di eccellenza che però anche quest'anno presenta tante tantissime novità in organico dopo la sessione invernale del mercato che ha chiuso ufficialmente i battenti alle ore 19 di ieri. Da oggi in pratica si potrà intervenire soltanto pescando dal calderone degli svincolati. Si riparte dunque con numerosi volti nuovi e parecchi cambi di casacca. Si riparte soprattutto dall'USB Tonto capolista solitaria. La formazione di Gino Zinfolino andrà a giocarsi la possibilità di vincere il titolo virtuale di campione d'inverno in trasferta nel derby tutto nero verde contro un Corato che ha perso diritto e lo ha sostituito in attacco con Mario Cirigliano. Non può più scherzare con i numeri la formazione di Vito Castelletti che ha bisogno di fare punti per non essere risucchiata nella zona a rischio della classifica. Un occhio di riguardo sulla sfida tra Corato e USB Tonto lo avranno le antagoniste della prima della classe, in particolare a Vetrana e Gallipoli di fronte nel match più prestigioso per somma punti. La Vigortrani andrà a caccia del colpaccio da tre punti con il Vieste del neo arrivato Colella. Il Casarano con le novità vice domini e lede a centrocampo ospiterà al capozza un fasano che ha affiancato nel reparto avanzato l'argentino Nicola Sdirito al suo connazionale Hannibal Montaldi. Spicca nel programma della quindicessima giornata, l'ultima del giro in andata, anche il derby della base tra Barletta e Unione Calciobisceglie che si giocherà al Manzichi Apolin. Senza pubblico sugli spalti, ieri i biancorossi di Franco Cinque si sono rinforzati con laboragini a centrocampo, oltre al terzino Giannella. Esito scontato nella sfida tra Omnia, Bitonto e Galatina. Gli omniani si sono meritati l'etichetta di protagonisti del mercato e hanno chiuso la finestra invernale con l'innesto di Michele Anaclerio in difesa. I salentini invece hanno svincolato tutti i giocatori e proseguiranno la stagione con la Juniores. Il Molfetta con un Rocco Augelli in più se la vedrà in trasferta con la radio che presenta in panchina la novità. Totonobile completa la scaletta, la sfida salvezza tutta salentina tra Novoli ed Otranto. Grazie mille. 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 Grazie a tutti